Ciao a tutti, finalmente è iniziato il calcio mercato invernale, il primo giorno è oggi, nonostante ci siano ufficialità che giravano già da qualche giorno, però è da oggi che si possono depositare i contratti e quindi andiamo a parlare delle ufficialità e di qualche trattativa. Come sempre vi invito a iscrivervi, a mettere mi piace, condividere, commentare, è tutto in forma gratuita, non vi costa nulla e per noi è il supporto più grande che potete darci, tra cui anche quello di guardare i video fino alla fine. Quindi andiamo con ordine appunto il nuovo portiere del Milan, Davis Vasquez, un paraguaiano, un portiere che in realtà è stata la sorpresa di ieri, perché è il primo dell'anno tra l'altro, vabbè, ma perché pareva che andasse sportiello, secondo l'Atalanta, nonostante l'accordo pare che ci sia già per giugno, probabilmente non si è trovato l'accordo economico, in più l'Atalanta ha qualche problema con Musso che sembra non stare benissimo fisicamente, quindi il Milan ha preso questo portiere del 98 dal Guarani per una cifra attorno ai 400.000 euro, ci sono Mirante e Tatarusano in scadenza, quindi per cui è un progetto comunque per il futuro, dove probabilmente il portiere lo farà al secondo, a Maignan e appunto il terzo sarà Davis Vasquez. Poi c'è la firma ufficiale di Sam Lammers, altro giocatore che si sapeva da giorni che sarebbe andato alla Sampdoria, ex Atalanta anche lui, primo acquisto definitivo proprio della Sampdoria, che prende però a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lammers dall'Empoli, cambiati diciamo così, Lammers e Caputo, Caputo è andato a Empoli e Lammers è andato alla Sampdoria appunto, poi sempre la Sampdoria attivissima in questi giochi di mercato e ci sta perché vista la situazione di classifica e non solo societaria, la Sampdoria oggi ha fatto le visite mediche per Nwinti, che quindi anche questa è solo questione di ore, è giocatore che era in scadenza con l'Udinese, quindi gli sarà riconosciuto un indennizzo da parte della Sampdoria all'Udinese, Alex Ferrari invece da, scusate c'ho il cane che non so che versi fa, Alex Ferrari invece da Genova è andato a Cremona, quindi per cui il suo posto verrà preso appunto da Nwintic. Altra operazione ottima secondo me, questa in chiave salvezza, perché è un ottimo giocatore, se ha continuità è veramente un forte giocatore, io ve lo consiglio anche a Fantacalcio eccetera, Malè è arrivato a Lecce nel pomeriggio appunto, oggi ha fatto le visite mediche, è questione di ore anche questo, per appunto il centrocampista della Fiorentina, che credo sia in formula di prestito neroso con obbligo in caso di salvezza, non credo, è così, quindi se la Lecce si salva, Malè andrà a Lecce a titolo definitivo, perché c'è poi l'obbligo di riscatto, questo è un colpaccio per me, per il Lecce, in caso si salvasse sarebbe veramente, anche forse plus valenza futura, perché comunque ripeto è un buon giocatore, che se ha continuità secondo me può fare veramente bene a Lecce. Andiamo invece con un po' di trattative, non solo ufficialità ovviamente, partendo da due possibili beffe per le italiane, perché McAllister ha detto che è felice al Brighton, lo stesso De Zerbi lo vuole tenere, quindi credo che McAllister rimarrà al Brighton, e quindi la Juve deve guardare altrove, perché se era vociferato potesse andare alla Juve. Queste dichiarazioni, sempre poi, con senno di poi, perché a gennaio, sapete, si dicono cose, se ne fanno altre, come tutte le sessioni di calcio mercato, McAllister per ora rimane al Brighton, quindi questa è una. L'altra fregatura dietro l'angolo è per l'Inter, perché pare che Turam sia molto molto vicino a Manchester United, e quindi ci potrebbe essere questa fregatura in sorpasso del Manchester United sull'Inter per Marcus Turam, e questa è un'altra. Poi ci sono tante trattative che iniziano a avere più credibilità col passare delle ore, duello tra Cremonese e Spezia per giudicarsi Bonazzoli, i vari esuberi delle varie squadre, quindi Gollini e Luis Maximiano, che cercano nuove collocazioni, e chissà dove possono finire questi due portieri, perché comunque sia, Gollini teoricamente può tornare all'Atalanta, ma rimane all'Atalanta? Non credo, non credo, visto il rapporto con Mister Gasperini, non credo, tanto più se Sportiello rimane, sarebbero tre Galli in un pollaio, non credo proprio che sarà così, c'è Schomurdo, che anche lui pare che debba trovarsi una nuova sistemazione, il caso Karsdorf nella Roma, ce ne sono tante, ce ne sono tante, Bakayoko, che al Milan forse non trova più spazio, perché comunque anche lì c'è un po' di sovrappopolamento, e Demme nel Napoli, che non trova spazio, anche lui forse chiede di andare via, ce ne sono, ce ne sono i vari Bogani, Storowski, ce ne sono tantissimi, che bisogna vedere dove veramente finiranno, perché bisogna poi anche trovare una sistemazione che vada bene al giocatore, non sempre funziona così, quindi vedremo, vedremo, poi ci sono tante ufficialità per il calcio inglese e francese, ma qui diciamo che ci fermiamo per il momento, vi ringrazio per essere stati fino qui con me, lasciate un like se il video vi è piaciuto, mi raccomando, supporto totale ai video di calcio mercato, che è una cosa che a me piace tanto, e cercherò di portarvela col lavoro, che tra un po' ricomincia il più possibile, il più possibile, cercherò di portarvi ovviamente quando c'è qualcosa di cui parlare, perché parlare di fuffa non ha senso, quindi oggi almeno ci sono delle ufficialità, e quindi era giusto fare questo video di esordio di calcio mercato del primo giorno, vi abbraccio di cuore, più tardi riuscirà il video dei pronostici di Serie A, il video voce ai nostri rivali, spero di riuscire a farlo, ma non sto trovando spezzini, quindi non so come fare, chi c'è non mi risponde, quindi forse salta, purtroppo non per causa mia, ragazzi io vi abbraccio di cuore, mi raccomando, commentate, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, la cosa più importante è attivate quella campanellina, vi prego, attivate la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche, tutti i video, non ne faccio 6 milioni al giorno, quindi non avete 500 notifiche, vi abbraccio di cuore, seguitemi tutti gli altri social, trovate qui in descrizione, buon anno ancora a tutti, a dopo, ciao!